Buonasera a tutte le amiche e gli amici di Facebook, un filmato veloce. Sapete che io sto preparando dei filmati per far conoscere, aiutare le persone vittime di incidenti o casi di mala sanità ad essere risarciti nel giusto. Quindi sono Pietro Riccio, creatore del progetto RSA e ultimamente ci chiamano i giustizieri del risarcimento. Ma in questo filmato voglio parlare di un'altra bellissima soddisfazione che ho appena avuto. Diverse persone che mi seguono nei miei filmati mi hanno contattato per dirmi, anche noi stiamo provando a smettere di fumare e sono più di dieci. Uno è passato alla sigaretta elettronica, diversi altri invece, io ho diminuito, sono passato da 30 sigarette a 3-4 al giorno. Sono nervosissimo, incazzatissimo, però voglio seguire il tuo consiglio. E questo mio filmato era soltanto per condividere con tutti quelli che mi seguono la soddisfazione di poter dire che è bello essere da esempio positivo per la salute delle persone. Quindi bellissimo, sono contento e volevo condividere con tutti quelli che mi seguono. E c'è da dire che se anche tu hai il vizio di fumare, io non sono un guru contro il fumo, sono semplicemente un esperto in risarcimento, però ho smesso di fumare e ci sono riuscito con un fai-da-te, quindi non mi sono rivolto a nessuno. E ci sono riuscito, ormai domani o dopo domani è già un mese che non sono più un fumatore, quindi volevo soltanto condividere con gli amici questo. Buona serata a tutti, buona salute, se anche tu fumi ce la puoi fare, ce l'ho fatta io che fumavo due pacchetti al giorno, ce la puoi fare anche tu. Ciao, buona serata e buona salute!